Questa gente qua non ha altro da pensare, portano via una cassetta di legno, ma esiste solamente questo, perché succede questo, portano via prima la cassetta, portano via un pezzetto, guardano cosa succede eccetera e poi magari si portano via anche il pezzo del 1300. Chi l'abbia portata via e per quale motivo al momento non si sa. Di certo c'è che l'edicola di legno che proteggeva la statua distria di un Cristo crocifisso del 1300 in Calle Emo a Cannaregio e è stata ritrovata poche ore dopo che la notizia della sua scomparsa aveva suscitato un'ondata di sdegno e rabbia in mezzo a Venezia. Il primo a lanciare l'allarme era stato il restauratore Valentino Cunego che nel 2018 aveva realizzato l'opera per conto dell'associazione Masegni e Nissio Etti, col placet della soprintendenza e il plauso della curia e del comune. È stata proprio tolta probabilmente anche con gente che ha qualche esperienza perché il muro non è ancora intatto quindi è stata svittata e portata via. Noi eravamo già pronti come associazione a rifarne un'altra insomma perché è una cosa che ci tenevamo e che ci teniamo molto. Alberto Alberti è un membro storico di Masegni e Nissio Etti, un'associazione di volontari che si occupa della tutela e della lotta al degrado di Venezia. A scoprire e di iniziare il processo di tutela di questa piccola statua è stato invece Luigi Ferrigno, decano dei fotografi veneziani, che ne aveva appreso l'esistenza nel 1993 durante una campagna fotografica. All'epoca qui c'era una cassetta malandata che poi è scomparsa, la statua era originariamente completamente annerita. Ho segnalato subito la cosa della soprintendenza e mi pare anche ai carabinieri del patrimonio culturale, per cui già sarà bloccato perché il mio timore, se si può dire così, era che volessero proprio portare via l'opera. Nicola Tognon, presidente dell'associazione Masegni e Nissio Etti, ha annunciato di avere intenzione di sporgere denuncia. L'edicola, che è stata ritrovata nei pressi di Campo San Leonardo, tornerà presto al suo posto. Siamo in attesa di altre comunicazioni da parte della Polizia Municipale, dopodiché rimetteremo su come prima.